L'esibizione degli sbagneratori cavensi e la benedizione di Don Rosario Sessa hanno celebrato l'inaugurazione dell'intervento di restauro di cui sono stati oggetto la torre nord e il bastione est della fortezza del castello di Sant'Adiutore. L'intervento di restauro è stato progettato dall'architetto Enrico De Nicola. Il castello è un po' il simbolo della città di Cava dei Tirreni, caro ai cavesi per la sua storia, per il ruolo che svolge nelle tradizioni e nella cultura cittadina, come ci ha spiegato Don Rosario Sessa, padre spirituale dell'ente Monte Castello. Qual è il significato e l'importanza di questi festeggiamenti e del castello in generale per Cava? L'importanza è grande, anche se forse non avvertita e non da un certo punto di vista anche culturale, compreso, sfruttato come si deve anche per itinerari turistici, per risorsa, per occasioni di lavoro. Io spero che l'inaugurazione di queste due torri possa portare davvero un accostamento, un avvicinamento al comprendere sempre di più non solo la storia, quindi la storia della nostra città, ma anche per fare in modo che questa risorsa così importante del castello Sant'Adiutore sia veramente per i caevi sia anche un momento proprio anche di rilancio da un punto di vista anche economico, diciamo così. E poi tra poco siamo nei giorni nei quali da qui dal castello Sant'Adiutore sarà innalzato il simbolo della festa per eccellenza della Chiesa Cattolica, anche di noi cavesi, che è la festa del Santissimo Sacramento. E quindi ci saranno tutti i festeggiamenti e vedranno la rinnovata benedizione eucaristica quando i cavesi qui sopra fanno memoria di quel famoso miracolo della peste del 1656. Quindi è un momento molto bello questo per la nostra città, speriamo che anche quest'anno i festeggiamenti in onore del Santissimo Sacramento avvicinino le persone tra di loro, avvicinino le persone al Signore, si cresca come Chiesa, si cresca come città, si cresca come famiglie, come popolo, si cresca veramente nell'amicizia tra tutti quanti noi.